mancano 48 ore alla ricorrenza degli 80 anni dall'ecidio delle fosse ardiatine mancano 48 ore e io prima che chiunque dica delle bestialità vorrei stasera ricordare io stasera vorrei ricordare prima che chiunque dica delle bestialità la rapidità con cui in 24 ore si trovarono 330 nomi di persone che servissero a una vendetta prima che chiunque si metta in bocca delle bestialità vorrei ricordare come quei 330 nomi di condannati a morte non c'erano nelle carceri italiane e i tedeschi decisero di far uccidere la alle fosse ardiatine 75 ebrei e persone rastrellate per le carceri persone che erano state a malapena denunciate da alcuni vicini di casa c'era uno addirittura che era accusato soltanto di aver portato delle sigarette ai partigiani c'era un sacerdote come don pietro pappagallo mancano 48 ore alla ricorrenza degli 80 anni dalle fosse ardatine io prima che chiunque si metta in bocca delle bestialità vorrei ricordare il modo in cui il ministro degli interni fascista disse sì sì dateglieli i nomi ed erano italiani erano italiani come lui mancano 48 ore agli 80 anni dalle fosse ardatine vorrei ricordare prima che chiunque si metta bestialità sulle labbra vorrei ricordare il modo in cui si decise di ucciderli si decise di ucciderli dentro le fosse ardiatine cioè in un luogo che fosse coperto che non fosse alla luce del sole affinché non si vedesse furono scelte le fosse ardiatine ricordiamolo prima che chiunque si metta bestialità sulle labbra furono scelte le fosse ardiatine perché una volta uccisi tutti potevano far saltare gli ingressi e dunque nessuno avrebbe scoperto niente mancano poche ore 48 alla ricorrenza degli 80 anni dalle fosse ardiatine prima che chiunque si metta in bocca bestialità io vorrei ricordare il modo vorrei ricordare quell'ordine che fu dato ai soldati di sparare dalla dalla nuca in basso affinché un solo colpo bastasse fu data l'indicazione di un proiettile a testa non di più aperte virgolette non sprechiamo proiettili prima che chiunque si metta in bocca delle bestialità io vorrei ricordare le testimonianze dei tedeschi che avrebbero detto dopo la guerra che si camminava sopra i cadaveri uno di loro di nome Gunther Hammond entra per fare gli ordini che gli sono stati imposti e non riesce sviene quando poi verrà interrogato dirà era troppo bestiale quello che mi trovai davanti prima che qualcuno si metta in bocca delle bestialità ora che siamo agli 80 anni dalle fosse ardiatine io vorrei ricordare vorrei ricordare il fatto che a quei soldati tedeschi venne chiesto di ubriacarsi di bere affinché non pensassero a quello che stavano facendo e a un certo punto erano talmente sbronzi che altro che un proiettile per ogni persona cominciarono a sbagliare persone rimasero tramortite in preda ai colpi per un quarto d'ora 20 minuti prima di morire prima che qualcuno si metta in bocca bestialità io vorrei ricordare le persone che morirono fra coloro che vennero uccisi alle fosse ardiatine morirono a 15 anni come duilio cibei oppure come michele di veroli vorrei ricordare ilario canacci vorrei ricordare la famiglia di consiglio che venne interamente sterminata tutti quanti dentro le fosse ardiatine prima che qualcuno si metta delle bestialità sulle labbra io vorrei ricordare prima che scatti l'ottantesimo anniversario delle fosse ardiatine vorrei ricordare e con questo me ne vado vorrei ricordare le parole testualmente pronunciate da eric prim che aperte virgolette sì è vero alle fosse ardiatine abbiamo ucciso alle fosse ardiatine ho ucciso ne ho ucciso uno ne ho uccisi due come faccio a ricordarmi quanti ne ho uccisi era un soldato non era un contabile e poi scusi che differenza faceva volevamo uccidere italiani noi volevamo ucciderne più che potevamo questo era l'ordine pensi a via rasella non avevano neppure ucciso tedeschi puri erano tirolesi però la verità è che cappler e un po tutti con lui volevamo far scorrere sangue italiano 80 anni dalle fosse ardiatine prima che chiunque si metta in bocca bestialità ricordiamoci le fosse ardiatine che sono stato la più grande quantità di sangue versato in italia in modo immondo in modo schifoso in modo bestiale